A Policastro un ottantenne è stato trovato riverso a testa in giù sul letto, stroncato da un infarto. L'anziano, che viveva da solo in un appartamento sulla strada nazionale di fronte al campo sportivo, da giorni non dava più sue notizie agli amici, che allarmati hanno chiamato ieri sera i vigili del fuoco. I pompieri, una volta entrati in casa, hanno scoperto il corpo dell'uomo in camera da letto, accasciato per metà sul cuscino, come se fosse stato colpito dal malore poco prima di dormire. Carlo Colucci de Laurentiis, questo è il suo nome, pur essendo originario dell'Avelinese, era conosciuto nel golfo di Policastro per aver prestato servizio per tanti anni come direttore didattico nelle scuole di Torre Orsay e di Camerota. I funerali si terranno domani alle ore 9.30 nella cattedrale di Policastro. Al termine delle sequie, il feretro sarà trasportato nel paese d'origine dell'uomo per essere tumulato.